La vita segreta di Laura Pausini, una storia di amore, dolore e resilienza. Cosa succede quando una stella della musica italiana come Laura Pausini decide di rompere il silenzio e condividere i suoi segreti più intimi con il mondo? Scopriamo insieme la sua storia, fatta di amore, dolore e resilienza. Laura Pausini, la voce potente e toccante che ha incantato milioni di cuori in tutto il mondo, ha sempre avuto una passione per la musica. Ma dietro il successo e i palchi scintillanti, si nascondono storie di sfide e tragedie che l'hanno plasmata come persona e come artista. Nata il 16 maggio 1974 a Faenza, Laura ha sempre avuto una passione per la musica. Crescendo, ha vissuto un'infanzia relativamente tranquilla, ma non senza le sue difficoltà. La sua famiglia ha dovuto affrontare problemi economici e questo ha insegnato a Laura il valore del lavoro e della perseveranza. La musica è stata per lei un rifugio, un modo per esprimere le sue emozioni e le sue esperienze. Sin da giovane, ha iniziato a esibirsi nei locali della sua città, sognando un giorno di diventare una star. Ma la vita di Laura non è stata sempre facile. Ha affrontato sfide e tragedie che l'hanno plasmata come persona e come artista. Uno degli eventi più drammatici della sua carriera è stato l'incidente di Reggio Calabria nel 2012, quando un operaio è morto durante l'allestimento del palco per un suo concerto. Questo evento ha avuto un impatto profondo sulla vita di Laura, che ha confessato di aver attraversato un momento estremamente difficile dopo la tragedia. Ha anche ammesso di aver considerato l'idea di abbandonare la musica. Ma Laura non si è data per vinta. Ha continuato a produrre musica, a esibirsi e a ispirare altri. La sua resilienza è un tema che emerge in ogni fase della sua carriera. E adesso, dopo 50 anni, Laura Pausini ha deciso di rompere il silenzio e condividere i suoi segreti più intimi con il mondo. Ha ammesso di aver avuto una relazione con una donna, una notizia che ha sorpreso molti dei suoi fan. La notizia che ha sorpreso tutti, Laura Pausini ha avuto una relazione con una donna. Questa rivelazione ha sollevato molte domande e ha stimolato la discussione tra i fan. Ma Laura non si è mai nascosta dietro un velo di professionalità. Ha sempre usato la musica per elaborare il suo dolore e condividere la sua esperienza con gli altri. E adesso, con questa rivelazione, Laura Pausini ha dimostrato ancora una volta la sua autenticità e la sua capacità di connettersi con il pubblico. Cosa ne pensi? Lascia un commento e condividi la tua opinione. Non dimenticare di mettere like e iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e storie di Laura Pausini.